Perché bevi ancora quel petrolio? Le mando ottima roba in continuazione. Il fegato finirà per scoppiarle come una bomba a mano. Questo è vero controllo. Il controllo è potere. Questo è il potere. È per questo che ci temono. Abbiamo il potere di uccidere, per questo ci temono. Ci temono perché abbiamo il potere di uccidere arbitrariamente. Un uomo commette un reato, doveva pensarci, lo facciamo uccidere e ci sentiamo in pace. O lo uccidiamo noi stessi e ci sentiamo ancora meglio. Questo non è il potere, però. Questa è giustizia. È una cosa diversa dal potere. Il potere è quando abbiamo ogni giustificazione per uccidere e non lo facciamo. E questo è il potere. Lo avevano gli imperatori, questo. Un uomo ruba qualcosa, viene portato davanti all'imperatore, si lascia cadere per terra tremante, implora per avere pietà. È conscio che sta per andarsene. E l'imperatore lo perdona, invece. Quell'uomo immeritevole lo lascia libero. Credo che lei sia obbligato. Questo è il potere, Amon. Questo è il potere. Amon, il buono. Io ti perdono. Ehi, aspetta, se ti piacciono le curiosità sui film, basta che vai sulla playlist curiosità del mio canale e potrai conoscere molti dettagli di altri film famosi di Hollywood. Mi raccomando, non esitare perché... Perché è gratis.